C'è chi parti con raga della sella e finisce per cantare la paloma e giorni di digiuno e di silenzio, per fare i cori nelle messe tipo a mandalini, vuoi vedere che l'età del loro, era appena l'ombra di Wall Street, la falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi e più si cresce, più misteri nuovi, gli artisti pop, i manifesti dei muri, i mantragliare a mille lire, il soldiismo di René Guenone, una signora vende colpi astrali, e buttavano sopra i comodini, deduco da una frase del Vangelo, che è meglio un imbianchino del Corpusier.